Ci sono delle osservazioni da fare sulla forza di Lorentz, la forza che una particella carica risente quando viaggia in un campo magnetico e l'espressione della forza, abbiamo detto, che è F uguale a Q per V per B per il seno di teta, cioè il prodotto tra la carica, la velocità, il campo magnetico e il seno dell'angolo compreso tra la velocità e il campo magnetico. La direzione è perpendicolare sia a V che a B e il verso si può determinare con la regola della mano destra. Il libro usa anche molto questa notazione vettoriale F uguale a Q, V, vettor B, usa forse la croce come simbolo del prodotto vettoriale. Dunque, la prima cosa fondamentale da osservare è che la forza di Lorentz non fa lavoro. La forza è perpendicolare alla velocità e quindi è perpendicolare a uno spostamento infinitesimo compiuto nel tempo infinitesimo di t e il lavoro che compie in questo tempo di t è quindi zero perché il lavoro è dato dal prodotto scalare della forza per lo spostamento. Se forze e spostamento sono perpendicolari il risultato è zero. Questo significa in particolare che l'energia cinetica, soprattutto della particella, non cambia a causa della forza di Lorentz. E questo è una cosa fondamentale, cioè la forza di Lorentz non frena la particella, non la accelera. L'unica azione che compie è quella di deviare la particella su un'orbita circolare. Quindi il modulo della velocità di questa particella nel campo magnetico rimane costante. Si può arrivare alla stessa conclusione anche dall'espressione del raggio dell'orbita circolare. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso dicendo che r è uguale a m v perpendicolare diviso q per b e quindi ricaviamo che la componente perpendicolare della velocità è uguale a q, b, r su m. Né q, né b, né r, né m cambiano al variare del tempo e quindi anche v perpendicolare non cambia. Quanto a v parallelo non cambia nemmeno quello perché non c'è nessuna forza che agisca nella direzione parallela al campo b e quindi il modulo della velocità rimane costante. Tra le conseguenze di questa cosa c'è l'isocronismo del moto circolare cioè il tempo che la nostra particella carica impiega a descrivere una circonferenza completa non dipende dalla velocità. Arriviamo facilmente a questa conclusione dicendo che per fare un giro intero la distanza da percorrere è 2π fratto r la velocità abbiamo detto che è costante e vale v e quindi utilizzando l'espressione che abbiamo per il raggio r mv su q per b vediamo che le v si semplificano e quindi questo periodo della rotazione è indipendente dalla velocità delle particelle. Questa caratteristica è sfruttata nel più semplice degli acceleratori di particelle che si chiama ciclotrone e che andiamo a studiare in un minimo di dettaglio. Qui abbiamo un video dunque il ciclotrone è composto da queste due camere cave che sono le quali viene applicata una differenza di potenziale molto grande dell'ordine dei 10.000 volt e una particella è carica con una velocità iniziale bassa viene messa dentro il ciclotrone trova tra le due armature trova una differenza di potenziale abbiamo detto 10.000 volt 20.000 volt quindi accelera a causa del campo elettrico il tutto è immerso in un campo magnetico quindi la particella è carica nel campo magnetico descrive un'orbita semicircolare e arriva di nuovo nella zona tra i due elettridi a questo punto noi invertiamo il campo elettrico e quindi la particella di nuovo viene accelerata e così via il campo magnetico la fa deviare arriva di nuovo nella zona tra i due elettridi e invertiamo di nuovo il campo elettrico e riacceleriamo la particella continuiamo in questo modo possiamo far raggiungere alla particella delle energie grandissime quindi il tempo in cui noi dobbiamo invertire il campo elettrico è questo è il tempo necessario a percorrere mezza traiettoria circolare e ogni volta a ogni giro possiamo far acquisire alla particella un'energia che è due volte da carica per il potenziale cioè la particella attraversa due volte la zona tra i due elettrodi e quindi la ragione del 2 e Q per V invece è l'energia guadagnata a ogni attraversamento di questa zona mettiamo dei numeri allora vediamo supponiamo che la particella sia un protone la massa è 1,7 per 10 alla meno 27 kg la carica è naturalmente come quella dell'elettrone 1,6 per 10 alla meno 19 Coulomb e supponiamo di avere un campo magnetico da un Tesla che è un signor campo magnetico e una differenza di potenziale diciamo di 20.000 volt allora questo ci dice che dobbiamo invertire il campo elettrico cioè dobbiamo dare corrente alternata al nostro ciclotrone ogni 3 per 10 alla meno 8 secondi quindi a frequenze piuttosto alte supponiamo di far compiere al protone mille giri e andiamo a vedere che energia acquisisce e soprattutto che velocità arriva a raggiungere allora abbiamo l'energia 2000 QV cioè mille volte 2 QV e quindi 6,4 per 10 alla meno 12 J e dall'espressione dell'energia cinetica E uguale a un mezzo mv quadro andiamo a ricavarci V uguale alla radice di 2 su m facciamo i conti e troviamo 9 per 10 alla 7 metri al secondo questo è il 3% della velocità della luce il raggio della semicirconferenza più grande quindi il raggio che dobbiamo dare al nostro ciclotrone costruttivamente andando a fare i conti viene circa un metro vedete qui c'è una foto di un ciclotrone vedete che con un ciclotrone che ha un raggio questo avrà un 2 o 3 metri di raggio si riescono a ottenere delle grandi velocità i ciclotroni sono utilizzati anche per applicazioni mediche come acceleratori di particelle sono assolutamente superati venivano utilizzati negli anni 50 ma ancora hanno applicazioni sono degli acceleratori di particelle piuttosto semplici da realizzare e anche poco costosi 3% della velocità della luce potrei pensare ingenuamente posso fare un ciclotrone 40 volte più grande quindi moltiplico tutto per 40 faccio 40 metri di raggio faccio compiere 40.000 giri invece di 1000 e in questo modo ottenere una velocità del protone superiore a quella della luce ovviamente questo non è possibile sappiamo che la massa ha bisogno della correzione relativistica quando ci avviciniamo alla velocità della luce quindi dobbiamo sostituire alla massa la massa relativistica gamma m dove gamma vi ricordo è questa quantità qui e quindi il raggio diventa gamma mv su qb quindi aumenta di gamma volte e siccome gamma diventa grande quando la velocità si avvicina a quella della luce tocca costruire degli acceleratori grandissimi il CERN a Ginevra l'acceleratore di particelle più grande che c'è al mondo attualmente ha un raggio di 4,2 km cioè una circonferenza di 27 km i protoni raggiungono il 99,999999% della velocità della luce il periodo della rotazione anche lui dipende da gamma e quindi siccome gamma dipende da v se voglio far funzionare questi acceleratori più grandi dei ciclotroni devo sincronizzare l'inversione del campo elettrico con la velocità del protone e quindi in questo modo funzionano i sincrotroni quindi noi vicino Roma a Frascati abbiamo un sincrotrone che è nato nel 1958 quindi uno dei primi al mondo tra le altre applicazioni che volevo segnalarvi c'è la spettrografia di massa spettrografia di massa che è un metodo per separare gli isotopi dei vari materiali l'interesse qui non è tanto per fisica quanto per il fatto che ha dei collegamenti interdisciplinari con altre materie per esempio è con uno spettrografo di massa che è stato arricchito l'uranio per fare le bombe atomiche nella seconda guerra mondiale allora l'idea è che separare due isotopi di uno stesso elemento è una cosa difficile perché le proprietà chimiche dei due isotopi sono identiche quindi soltanto con metodi fisici si possono separare isotopi della stessa quantità e l'osservazione chiave è che il raggio della traiettoria delle particelle cariche dipende dal rapporto tra massa e carica e questo ci permette di separare gli isotopi perché la massa degli isotopi è diversa e quindi che cosa facciamo prendiamo un materiale per esempio l'uranio lo ionizziamo quindi lo consideriamo un vapore di uranio ionizziamo questo uranio e dopodiché lo acceleriamo a una velocità che sia sotto controllo ci sono degli strumenti per fare questa cosa e lo mandiamo in un campo magnetico che cosa succede? che i due isotopi descrivono traiettorie con raggio diverso e quindi io posso raccogliere da una parte un isotopo e dall'altra l'altro isotopo in questo modo riesco a separare gli isotopi sulla stessa idea funziona l'esperimento di Thomson un esperimento di fine del 1800 che è la prima evidenza sperimentale dell'esistenza delle particelle subatomiche qui si può approfondire questo argomento e poi l'ultima osservazione che volevo fare è che la forza di Lorentz non è relativisticamente invagliante cioè nella espressione della forza compare la velocità e la velocità però rispetto a quale sistema di riferimento se osserviamo il moto dell'elettrone in un sistema di riferimento che va alla stessa velocità dell'elettrone questo sembra fermo e quindi dobbiamo capire qual è l'origine della forza che invece l'elettrone sente non certo la forza di Lorentz come l'abbiamo espressa queste asimmetrie, queste discrepanze portarono Einstein a formulare la relatività